È un'indagine importante perché a mia memoria da quando io sono a Trieste è la prima volta che un giudice riconosce l'esistenza dell'aggravante e del metodo mafioso. Nove arrestati per estorsione aggravata dal metodo mafioso tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia. Uno di questi è il presidente dell'ASCOM di Bibione, Giuseppe Morsanuto. L'operazione dell'indagine parte da lontano ed è condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, dalla Guardia di Finanza di Trieste e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. Gli arrestati di origine campana a parte Morsanuto e residenti in varie zone del nord-est erano intenzionati a impedire il regolare svolgimento a Bibione nel comune di San Michele al tagliamento della manifestazione estiva i giovedì del Lido del Sole che promuove l'artigianato e le aziende agricole locali. In particolare hanno costretto con azioni intimidatorie numerosi commercianti ambulanti veneti e friulani a non esercitare la propria attività nella fiera. Lo scopo era quello di prendere il controllo delle attività commerciali tramite persone di fiducia. Siamo in un ambiente di venditori ambulanti e quindi non siamo in un ambiente culturalmente importantissimo, però è importante il segnale che la Procura Distrettuale dà e cioè laddove ravvisiamo il metodo mafioso noi interveniamo. Qui l'abbiamo ravvisato in questo settore. Vorrei dare un messaggio di fiducia a tutti coloro che possono ritenersi vittime di qualcosa del genere, anche in altri settori della Regione Fulminizia Giulia, che noi ci siamo. Chi non si allineava veniva minacciato e costretto ad abbandonare l'attività oppure picchiato in una vera e propria spedizione punitiva, come avvenuto in un caso. Quelli che noi consideriamo vittime non sono uscite spontaneamente allo scoperto e non hanno rivelato loro i fatti. Ci siamo arrivati noi. Però quando li abbiamo sentiti non hanno esitato a raccontarci le cose come stavano e le hanno dipinte con modalità tali che ci hanno convinto sulla bontà delle nostre intuizioni iniziali. In particolare il metodo è di stampo camorristico. Durante le perquisizioni che tuttora proseguono alle abitazioni e ai luoghi appartenenti agli indagati, sono state trovate armi bianche e denaro da provenienza illecita, ma non solo. Posso dire che mi è stata comunicata la notizia che è stata rinvenuta una pistola con matricola brasa, quindi un'arma clandestina, e questa si pone in sintonia con il tipo di ambiente che riteniamo di aver scovato. I responsabili di estorsioni e minacce agivano autonomamente nell'area di San Michele al Tagliamento, ma dai loro profili è evidente come ci siano dei collegamenti con note famiglie camorriste della campagna. Le indagini, lungi dall'essere concluse, intanto proseguono. Io vorrei dire da cittadino del fluo Mettaggulia che non è la punta di un iceberg, però se lo fosse trova degli investigatori pronti ad andare anche al di sotto della superficie. Diciamo che è un'operazione semplice.